Allora, Stefano Volpi, preparatore dei portieri, soddisfazione anche per te che curi una parte della squadra? Sicuramente è una grande soddisfazione, il merito diciamo prendiamolo anche un po' noi dello staff, il mister in primis, poi il preparatore atletico, io, massaggiatore, te, insomma, magazziniere, tutti quanti. Però poi il merito grosso è della squadra, sì, io ho un compito delicato perché purtroppo curare un ragazzo del 95 non è facile, arrivare in questi momenti c'è sempre la tensione, la cosa che ti gioca contro, però sinceramente è stato impegnato il giusto, però all'ultimo nella fase determinante è stato efficace, su una respinta di pugni e su un'uscita bassa è stato, diciamo, efficace. Ecco, quanto è difficile tenere tranquillo, soprattutto un giovane del 95 che deve affrontare due partite importanti nel giro di quattro giorni? È difficile, è difficile lavorando e poi lavorando anche sulla testa, perché con la mia testa, la testa di Gian Bruno, voglio citare il dodicesimo, e la testa di Cappellini creiamo un bel mix per portare avanti un buon allenamento, bisogna tenerlo sempre tranquillo, non farlo esaltare perché siamo primi e ripeto, il giovane è sempre, diciamo, difficile allenare un giovane perché da un momento all'altro purtroppo è normale che sbagli, se no non sarebbe un giovane. Ecco, il direttore sportivo Andrano Perini mi ha detto, hai molte richieste per il prossimo anno, quindi sarà dura trattenerti qui a Ponsacco. Io voglio rimanere a Ponsacco il più possibile, le richieste non mi interessano, io voglio rimanere qui, crescere con voi e cercare... E mi resti anche in bianco. Sì, però ci metto la cifra io.